La chiesa della Madonna del Tindari, Madonna nera. Qua c'erano le vongolette. La cosa bella di questo laghetto è che se poi noi andiamo oltre quella siepe troviamo le isole olie. Vulcano, Livori, Salina, laggiù ce ne sono altre. Quello è Milazzo, poi c'è Barcellona, Fulmeri. E qua c'è un altro laghettino con una grotta laggiù. E l'immancabile isole olie. Si vede anche laggiù stromboli e panarea. Grazie. 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 Grazie.